Ciao! Allora, volevo condividere con te questo momento e volevo ricordarti quanto è importante bere e bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Ricordati che siamo fatti di acqua, almeno il 70% o oltre, quindi è molto importante bere acqua e per me è importante berla, naturalmente nella bottiglia di vetro, al quale aggiungeremo 9 gocce di olio essenziale di limone. Perché? Perché aiuta a detossinare, a ripulire il nostro corpo. 6, 7, 8, 9. Per me è molto importante, perché comunque lavorando nel benessere, lavorando nell'estetica e comunque assumendo dei farmaci per motivi di salute, per me è molto importante riuscire a bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e utilizzare l'olio essenziale di limone che mi permette di pulire il corpo, di migliorare l'ossigenazione dei miei tessuti, di idratare la mia pelle, di migliorare tutto quello che sono i ricambi cellulari. E volevo condividere con te questo suggerimento. La bottiglia con scritto LOVE, quindi AMORE, ci permette di caricare l'acqua di frequenze positive. Ti rimanderei per questa cosa a tutto quello che sono gli studi di Masaru Emoto, che è questo ricercatore che per tutta la vita ha lavorato dimostrando quanto le frequenze delle parole possono influenzare, influenzano o non possono, influenzano in maniera armoniosa o disarmoniosa, quindi armonica o disarmonica, le particelle dell'acqua. E essendo noi fatti di acqua è molto importante bere, bere con delle frequenze positive, quindi una bottiglia con scritto LOVE è decisamente fantastica, ma anche proprio imparare ad amarsi e ad accettarsi ogni giorno per quelli che siamo, per quelli che non siamo anche, e cercare di ritrovare la gratitudine per tutto quello che abbiamo. Io ti mando un grosso abbaccio e ti ricordo che tutti i suggerimenti che io condividerò con voi li potete trovare anche su Naturalmente Bella, sia viso che corpo, che trovate sul sito di Olidee, con il quale condividerò con voi alcuni suggerimenti, alcuni trattamenti. Se volete andarli a leggere con calma e poterli condividere, sperimentare, li trovate proprio sulle due riviste. Naturalmente Bella non è scritto solo per le donne, ringrazio uno dei miei colleghi che me l'ha fatto notare, perché è stata una svista non voluta, vi assicuro non è stata pensata e assolutamente non è discriminante, ma Naturalmente Bella è uscito così, nel senso, boh, c'è uscito così il titolo. In realtà è Naturalmente Belli, perché sia per le donne che per gli uomini, quindi troverete anche suggerimenti che sono perfetti anche per il sesso maschile, quindi mi raccomando, cercate di bere un litro e mezzo di acqua tutti i giorni, di ringraziarvi, di ringraziare e cercate di volervi un pochino più bene. Io vi abbraccio, vi mando un grande bacio, alla prossima, ciao! Ciao!